Sento spessissimo allievi adulti che arrivano a lezione da me e mi raccontano la loro storia musicale passata e dicono Marta io ho smesso perché il mio maestro di prima mi ha detto che non ero abbastanza brava oppure mi sentivo sempre inferiore ai miei compagni di corso, non avevo abbastanza talento per suonare quello strumento io rido perché mi conoscete e sapete come la penso su questi insegnanti che sparano giudizi e sentenze senza avere cognizione di causa perché è molto difficile valutare il talento, questa parola mal compresa, e la musicalità soprattutto di una persona quindi ho deciso di fare un video per parlare delle convinzioni limitanti e dei desideri musicali Io sono Marta e sono una maestra di musica, in questo canale parlo di educazione musicale consapevole sviluppata attraverso l'intuito musicale e gli archetipi musicali, i modi e i metri Entriamo un po' nel vivo del video parlando innanzitutto delle convinzioni limitanti ovvero tutte quelle frasi dette da quelle che possiamo considerare dei censori musicali a volte sono persone esterne a noi come un insegnante, un genitore, un parente a cui teniamo molto un ex fidanzato fidanzata, ex perché si ha detto queste frasi deve essere sicuramente un ex oppure noi stessi che ci siamo autoconvinti di non essere abbastanza musicali o di non avere abbastanza talento e questo perché da fuori sicuramente mancavano una connessione tra quello che noi musicalmente facevamo e un'approvazione dall'esterno di cui tutti siamo sempre in cerca Il censore musicale lo abbiamo prima o poi conosciuto tutti Sono tutte quelle frasi tipo Non sei abbastanza brava Non hai abbastanza talento Non ce la farei mai in musica Non sei figlia di musicisti quindi Oppure ancora Non sai leggere bene Non sai fare bene il solfeggio Quindi non potrai continuare poi e diventare bravo E spesso queste convinzioni limitanti si sono radicate dentro di noi E hanno determinato delle scelte Per esempio possono aver determinato l'abbandono del nostro curriculum di studi musicali Oppure una fatica interiore anche laddove abbiamo proseguito Io per esempio ho fatto tantissima fatica nel mio percorso di studi Proprio a causa di queste convinzioni limitanti Dietro cui mi ero proprio asserragliata E avevo dato tantissimo peso perché mi erano state dette da persone a cui io tenevo molto Quindi non possono non aver ragione Se me lo dicono mi vogliono bene Lo fanno perché è vero Mentre purtroppo questo non è sempre la realtà Perché queste persone possono dire queste frasi Perché a loro volta sono state ferite da qualcun altro Da qualcuno che in passato ha detto loro che non avevano abbastanza talento Oppure convinzioni fortemente radicate anche a livello familiare Perché no? Queste convinzioni possono essere limitanti anche quando sei dall'altra parte Quindi per esempio sei figlio di musicisti E quindi tutti danno per scontato che tu abbia la musica nel sangue La musica non si trasmette attraverso il sangue Non è neanche non si trasmette geneticamente Se non per il fatto che siamo figli dei nostri genitori E quindi la composizione dei nostri geni deriva da quello Ma il gene della musicalità non è trasmissibile Quindi anche questa è una convinzione limitante al contrario Per cui i figli di musicisti poi si sentono in dovere di essere musicali Anche laddove magari non gli interessi Le convinzioni limitanti sono strettamente connesse con i nostri desideri musicali Perché come abbiamo detto prima Vanno a inficiare il corso delle nostre scelte Se io sono convinta di non avere un buon orecchio ritmico Magari perché semplicemente il mio insegnante non me l'ha fatto sviluppare nel modo corretto Io non sceglierò, sceglierò uno strumento melodico E magari mi piace tantissimo quello strumento a percussione Ma non lo faccio perché mi hanno detto che io non sono abbastanza Non ho un'attitudine ritmica abbastanza alta Ci possono essere tantissime scelte di questo tipo che possiamo aver fatto E oltretutto ci sono delle convinzioni limitanti anche sui desideri musicali che possiamo avere Cioè quando un allievo comincia a studiare musica da tanti anni E quindi a portare avanti un percorso di studi E magari cambiando anche varie scuole Quindi continuando a crescere da questa parte Ci si aspetta che lui metta a frutto questo suo studio della musica Attraverso uno strumento musicale, il canto eccetera Conseguendo un diploma, una laurea Andando a studiare Questa di solito è l'aspettativa dei genitori Sempre però connessa al No però ti devi tenere anche un piano B perché non è detto che ce la fai in musica Questo è Inception Una convinzione limitante dentro una convinzione limitante C'è una frase per citare i blu vertigo che dice Anche se per caso mi piacessero i fiori non è detto che io debba fare il fiorista Non esiste una sola realizzazione possibile musicale Quindi non è detto che se mi piace la musica io debba per forza nella vita fare il musicista Ci sono tantissime cose che posso fare e possono essere tutte valevoli Anzi sono tutte valevoli e determinano la mia realizzazione musicale La mia, non quella dei miei genitori o di chi è all'esterno Per far nascere dei nuovi desideri musicali in te Devi assolutamente prima andare a controllare se sono presenti delle convinzioni limitanti Questo lo puoi fare semplicemente anche prendendo un foglio di carta E cominciando a scrivere tutto quello che ti viene in mente sulla musica relativa a te Quindi prova a descrivere, a scrivere su un foglio la tua musicalità Ti accorgerai che ogni tre frasi probabilmente entra dentro una frase di un censore O magari non ti trovi in grado proprio di descriverti perché musicalmente Sei sempre dovuto rimanere molto umile, molto nell'angolo, magari all'ombra di qualcuno Di solito è il cugino che suona Beethoven, di qualcuno più bravo di te Una volta scritte tutte queste convinzioni presenti dentro di te Quindi proprio prova a scrivere tutte le convinzioni limitanti Tutte le frasi negative sulla tua musicalità Prova Anche se nella maggior parte dei casi può essere un po' doloroso Tu prova E poi prova a scrivere invece tutte le cose che tu ritieni Senza giudizio alcuno di nessun altro Che tu ritieni siano importanti davvero per te E che ti caratterizzino musicalmente Scoprirai delle cose meravigliose Per esempio Io mi accorgo di Saper cantare immediatamente Di trattenere benissimo una melodia dopo il primo ascolto Oppure io so leggere benissimo la musica E magari puoi andare a lavorare sul mettere insieme queste due cose Dopo aver fatto questo puoi dedicarti ai tuoi desideri musicali Cioè Che cosa voglio raggiungere per me stesso musicalmente Puoi avere davvero tutti i desideri musicali che desideri Per esempio puoi decidere di sviluppare un ascolto importante Un ascolto molto yin presente profondo quando ascolti Oppure puoi decidere di proprio per te stesso Imparare agli elementi musicali per riconoscerli Quando ascolti una canzone Non è detto che tutto lo studio musicale debba trasformarsi nello studio di uno strumento Questa è un'altra convinzione limitante Molto spesso Incaselliamo i bambini che vogliono iniziare a fare musica Dandogli in mano uno strumento e Obbligandoli a scegliere uno strumento Quando ancora magari non sono pronti per sceglierlo O non era loro intenzione Quindi scrivimi qui sotto Qual è il tuo desiderio musicale più grande E quale vuoi realizzare Ne possiamo parlare nella mia community di intuito musicale E guarda anche gli altri video che ti lascio Per continuare a sviluppare il tuo intuito musicale E se non l'hai ancora fatto Iscriviti e accendi la campanella Per rimanere aggiornato sui prossimi video Ciao Ciao